Benvenuti agli Hunger Games su Five Nights at Freddy's. Chi vincerà secondo voi? Scrivetemelo nei commenti. Il bagno di sangue. Golden Freddy, Freddy e la Puppet lottano. La Puppet li uccide trionfalmente entrambi. Giorno 1. Foxy, Bonnie, Lefty, Montgomery Gator e Fintime Foxy rintracciano ed uccidono Glamrock Chica. Orville uccide Toy Chica mentre sta riposando. Notte 1. Roxanne Wolf costringe Toy Freddy ad uccidere Mangol o Springtrap. Lui decide di uccidere Mangol. Ballora muore per un'infezione. Giorno 2. Orville muore di sete. Fintime Foxy fa esplodere una bomba uccidendo Fintime Freddy. Notte 2. Lefty calpesta accidentalmente una mina. Ennard coglie la sprovvista Toy Freddy e lo uccide. Giorno 3. Ennard decapita Mr. Hippo con una spada. Notte 3. Ennard, Toy Bonnie, Glamrock Freddy e Bonnie rintracciano ed uccidono la Puppet. Questa è l'attuale situazione. Come continuerà? Scopritelo nella parte 2 che troverete nel primo commento.